Corcumello, Corcumello vecchio, vai, vai, vai che arrivo, vai che arrivo, che arrivo sotto, sotto le mura di Corcumello vecchio, a girone, 80 chilometri, oh, ci abbiamo pure i turisti a Corcumello, eh? Ah, ciao, ho visto i tuoi video, ho visto, ho visto i tuoi video, ho visto, ho visto i tuoi video, ho visto i tuoi video, ho visto uno a Forca, verso Pagliara, lì, ah, sì, ah, quello sì, sì, no, siamo stati a Pesco Canale, da Capistrello, siamo scesi giù a Pesco Canale, sempre fuoristrada, la strada vecchia che riesce alla stazione di Pesco Canale, Pesco Canale, siamo saliti un po' nel paese e poi siamo ripiombati dall'altra parte che abbiamo fatto fino sotto, da San Nicola, sopra la scuola, aspetta che spengo e poi riprendo dopo.